Ciao a tutti e benvenuti sul nostro canale Prezzo e Recensioni. Prima di iniziare, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, mettere mi piace e lasciare un commento. Oggi esploreremo i migliori proiettori portatili del mercato, perfetti per chi cerca un'esperienza cinematografica ovunque si trovi. Dalle soluzioni 4K ai modelli ultracompatti, abbiamo selezionato i modelli più performanti e affidabili per ogni esigenza. Andiamo a scoprire insieme queste soluzioni innovative. Al numero 8, il GMG-ON1 Ultra Proiettore 4K. Questo modello offre 2200 lumen CVIA e tecnologia laser tricolore ma con Android TV11, proiezione cardanica a 360 gradi e correzione automatica dell'immagine, è ideale per un'esperienza visiva di alta qualità. Gli altoparlanti di in audio da 2x10 W completano l'esperienza con un audio superbo. Al settimo posto, il proiettore GMG-ON1 Pro 1080p Full HD. Questo proiettore portatile offre 1500 lumen CVIA e la stessa tecnologia laser tricolore maxi con correzione istantanea del display e giunto cardanico integrato, è perfetto per chi cerca un dispositivo versatile e facile da configurare. Al numero 6, l'ASUS un proiettore FLED portatile. Con risoluzione Full HD 1920x1080, refresh rate di 120 Hz e 1200 lumen, è ottimizzato per il gaming. Offre anche Kiston Adjustment, Autofocus e Audio 2.1 Channel, rendendolo ideale per un'esperienza di gioco immersiva. Al quinto posto, il Beintech R20 Pro. Questo proiettore 3D commessa a fuoco automatica è ideale per il cinema all'aperto e on-theater. Dotato di batteria ricaricabile, supporta la proiezione wireless 1080p 4K e opera su Android 9.0. Al quarto posto, il XGIMMO GO 2 Pro 1080p proiettore portatile. Con Wi-Fi, Bluetooth, Android TV 11.0, 400 lumen ISO e altoparlanti 2x8 Watt, è compatibile con 4K. Offre Autofocus, evitamento oggetti e regolazione schermo, rendendolo un dispositivo estremamente versatile. Al terzo posto, la Caso Mini Proyector. Questo proiettore è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo ultraportatile da portare ovunque con sé. Al secondo posto, il Dine Bay Proiettore 4K. Con 3200 ANSI lumen, questo proiettore laser Full HD offre Wi-Fi 2.45 GHz e viene con Android 4GB più 128GB. La messa a fuoco automatica e Bluetooth 5.0 lo rendono un'ottima scelta per proiezioni all'aperto. Infine, al primo posto, il proiettore Dolby Audio GBL TV 7000 più app support con NFC USB-C. Questo videoproiettore Full HD Haber K2S offre 800 ANSI, supporta 4K, e viene con proiettori Wi-Fi 6 Bluetooth 5.21080p nativo. È ideale per chi cerca un'esperienza audiovisiva di alta qualità. Quale di questi proiettori portatili sceglierete per i vostri momenti di intrattenimento? Faccelo sapere con un commento. Trovate tutti i link ad Amazon sotto al video in descrizione o nel primo commento. Grazie per aver seguito Prezzo e recensioni. Lo staff di Prezzo e recensioni vi ringrazia per la visione. Non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere aggiornati sulle ultime novità e recensioni. Alla prossima!